Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Si avvia alla conclusione anche il campionato di Formula 1 con l'ormai consueta passerella finale sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Le condizioni meteo non destano particolari preoccupazioni in Medio Oriente, con il tempo che rimarrà generalmente asciutto per tutto il weekend. La sabbia però potrebbe essere un elemento da tenere in considerazione soprattutto nei primi giri sul tracciato, così come le temperature. L'ultimo Gran Premio della stagione si svolgerà infatti al tramonto e dunque l'escursione termica tra l'inizio e la fine della gara sarà piuttosto marcata. Per tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti sul campionato 2019 di Formula 1 seguite il nostro sito o il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.